Qualche pillola a favio ho parlato dell'armilla equinoziale posta sulla facciata di Santa Maria Novella, strumento utilissimo per individuare il momento esatto dell'equinozio, cioè il giorno in cui la notte e il giorno hanno la stessa durata. Conoscendo il giorno dell'equinozio di primavera, si poteva ad esempio calcolare la Pasqua cristiana. Stamani ho osservato l'ombra proiettata e anche se il vero equinozio d'autunno cadrà il 23 settembre, oggi siamo il 21, sappiate che nel giorno dell'equinozio, al momento del mezzogiorno solare, sulla facciata non si vedranno più delle ombre a forma di cerchi allungati, ma ammireremo un'ombra a forma di croce, è quello che vedete in questo momento. Anche se non è perfetta e non sono stata fortunatissima con il sole, che era così nitido da marcare molto l'ombra, potete vedere in questo filmato come andandoci in tre momenti diversi dalla mattinata, l'ombra è effettivamente molto cambiata. Tornateci il 23 a mezzogiorno sperando nel bel tempo.